Musica 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 o pronti parara mi raccomando cerchiamo di reale minima 10 like per un prossimo video del genere 15 a 15 perché c'è attaquelfa 15 15 perché c'è attaquelfa e c'è anche anselmi eh anselmi a casa mia non c'è perchè c'è scarpe anselmi a scarso quindi non lo contate anselmi può apparire nel video no ragazzi gente ciao saluta anselmi e ha salutato non so se si è sentito ragazzi uno da solo prima perchè devi venire a disturbare il video cercamo di faccelo subito mi mando è sto porcellino è qua fuori dallo stadio se venite con me ce lo famo è come francio franjeco eccolo fede fede c'è una trappola c'è una trappola e basta fede andamolo andamolo a pusciare niente dobbiamo fare il video no devi venire questi ma sta a terra cura lo io copro cura lo io copro tanto c'è l'altro là dai veloci che dobbiamo fare subito la partita perchè non siamo in safe che sfiga però veramente cioè non siamo in safe eccolo eccolo è qua è qua sotto andammo qui sotto andammo qui sotto io raga resto su eh andammo a pieglie porca me ce l'ho proprio oggi che dobbiamo fare il video ma infatti va rompe le palle ci stiamo andando stavo stavo a cercare un po' no altra gente ancora mi chiede quanta gente oh fede colpi del pombo mi sparavano qua ecco la lo è stato raga minuti che mi aiuta non c'è materiali vittato io levate lo scudo levate lo scudo bravo dai iniziamo subito si levamo le costruzioni raga vai tutto pronto l'esordio attenzione finale di champions e io pieglie qua no pieglie vieni qua e cozzo la stanno qua dovete vieni qua dai oh cozzo devi andare a regia musica è partita mette federico vieni qua devi andare a canto cozzo musica epica attenzione finale di champions ti devi mettere qui dai vai si inizia 3 2 1 via vai vai no cos'è sta mafia vai pieglie dai è fallo rosso via è rimessa rimessa mia batto io fede batto io vai 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 gioca giù vai vai si non vai le costruzioni vai hai due se arriva se segniamo un momento palla nostra palla nostra fede dietro vai arriva no arriva no lo tengo io lo tengo io fede chiudilo 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 pari rimessa vai fede sto qui oh oh no mi è secchinato vabbè qua no non lo tirare indietro ci so io vai è partito eh che non ci si capisce più niente vai è partito no no se l'allarga fede no fede è bella chiudila è grande è angolo è angolo guardi sul primo palo vai vai aspetta oh che palle vai va batte dai batte da qua dai che te frega batte da qua vai vai è buona vai indietro attento attento vai piega bravo è mio è mio è mio è mio lo tengo io piega è rimessa è rimessa dai veloce questa riguarda la safe ciao ale ciao lori veloce veloce dai io batti ciao ragazzi ciao a tutti ciao oh cozzo batti ecco oh 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 chi è sta mafia oh no 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 dai dai io non vai fuori gioco ragazzi fuori gioco dai io si arriva i tre dai vai fede la safe io c'ho 30 di vita ma che te frega la safe vabbè giochiamo pure sotto l'acqua ti do le pende fattela appena arriva la safe vai fede no vai no il contrasto decisivo nostra nostra vai vai veloce vatti vai fra qua fede è mia oh è un po' fuori oh oh no non c'è più i fuori abbiamo detto è tarofa ok poterà in mezzo vai fede no vai si no su su basici su basici no vai fede si vai vai parti vai piega party vai piega gli do fastidio gli do fastidio vai la chiusura si victory royal vai ah ragazzi per questo video è tutto cerchiamo di sparare i 15 like perché c'era cozza bella bella